Un importante corso di formazione professionale è stato organizzato nel Vallo di Diano su iniziativa del Circolo Banca Montepruno, presieduto da Aldo Rescinito, puntando così ad offrire importanti spunti lavorativi nel territorio, adeguando quindi le competenze alle caratteristiche dell'area. Si tratta di un corso di formazione teorico-pratico di fitoterapia, gemmoterapia e aromaterapia, che per la parte teorica si svolge presso la Sala Cultura della Banca Montepruno. Le attività formative curate dall'Agenzia di Formazione Professionale Fosapa, con responsabile Biagio Matera, punta a favorire l'acquisizione di importanti nozioni di fitoterapia, branca della farmacoterapia, che si occupa di trattare patologie e disturbi con l'aiuto di piante medicinali. Docente del corso è il dottor Nicola Di Novella, esperto naturalista e profondo conoscitore delle piante presenti nell'area parco e del valore terapeutico delle stesse. Il corso, iniziato nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione di circa 15 operatori delle professioni sanitarie a cui il corso era rivolto, provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma anche da aree limitrofe. Per la prima lezione il presidente del circolo Banca Montepruno, Aldo Rescinito, ha voluto lasciare il suo saluto ai partecipanti, ringraziando innanzitutto la Banca Montepruno e il direttore generale Michele Albanese, che ha sostenuto l'iniziativa mettendo a disposizione la Sala Cultura per le lezioni teoriche. Rescinito ha voluto anche sottolineare la sensibilità costante dell'Istituto di Credito sul tema della formazione per accrescere le competenze sul territorio. Lo stesso direttore Michele Albanese ha lasciato i suoi saluti al gruppo di lavoro e al gruppo organizzativo, ma soprattutto il suo augurio di buon lavoro ai partecipanti. Presente inoltre per la prima lezione anche il responsabile dell'agenzia di formazione FOSAP a Biagio Matera. A curare la lezione il dottor Di Novella, che ha svolto un'interessante e approfondita lezione sull'etnobotanica e sull'importanza della medicina popolare dei tempi della scuola medica salernitana fino ai giorni nostri, con illustrazioni teorico-pratiche della preparazione di tisane, decotti ed infusi e le loro proprietà terapeutiche. La sua relazione ha destato vivo interesse in tutti i partecipanti, i quali hanno chiaramente espresso la volontà di continuare ad approfondire alcuni argomenti durante le altre sedute del corso e il desiderio che adesso possano far seguito non solo le preventivate visite sul territorio del Parco Nazionale Cilento-Vallo di Diana-Alburni, ma anche altri incontri ritenuti opportuni ed utili per approfondire la conoscenza sull'uso terapeutico delle piante e sullo stato di salute dell'organismo umano.